Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo, le riporterò in vita due mie vecchie canne. E adesso andrò un attimo a raccontarvi. Cioè, le riporterò a nuovo, spero che questo video vi piaccia tanto. Infatti vi chiedo di superare i 150 mi piace. Lo so, sono un po' tanti, però è un progetto a cui tengo molto, che è da tanto che volevo fare, che per me ha un significato molto importante che tra poco andrò a spiegarvi. E spero che vi possa piacere, spero che vi possa appassionare anche a voi. Se questo video vi piacerà, cioè, lasciatemi anche qua sotto i commenti magari qualcosa, adesso andrete bene a capire. Mi piacerebbe portarne degli altri. Se andrà tutto secondo i piani, più o meno. Adesso non so, non ho esperienza, quindi si vedrà. Dunque ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, lasciate like, condivete il video e direi via con la sigla. Grazie a tutti. E' un'altra cosa like avete ancora tempo per farlo siete ancora convinti presto capirete restauro queste canne vi spiego il perché queste canne sono con me ormai da una vita hanno più di 20 anni queste canne contate sono veramente speciali per me perché sono le prime canne con cui ho fatto bus chi è più attento vedrà che questa canna ha fatto il primo video del canale una delle due perché sono due sono vecchie canne da casting ci pesco fin da quando sono piccolo sono state le mie prime canne da casting e con quelle ho fatto un sacco di bus e molti anche molto belli devo dire certo mi hanno fatto un po soffrire perché tra poco capirete per chi è un pochino più nuovo del canale e mi dava fastidio non poterle utilizzare cioè sì potrei utilizzarle diciamo che hanno risentito il tempo il cambiamento sono veramente vecchio stile e veramente particolari soprattutto veramente rovinate hanno fatto un sacco di battaglie mi hanno accompagnato hanno preso i luri anche di grosse dimensioni parliamo di metro 50 metro 80 pesci di una certa mole hanno preso di tutto gatti americani bus perca anche luci cioè hanno preso di tutto e mi hanno accompagnato in un sacco di avventure e per questo spero che possano fare un posto anche nei vostri pensieri mi dava fastidio vederle la ferme non piegarsi più adesso vi metto delle immagini sopra pressione sono delle vecchie canne che venivano utilizzate nel bus soprattutto sono corte sono circa un metro ottanta l'anellatura è fatta come i vecchi standard quindi è molto larga non avendo un appoggio sul gomito sul sul braccio il polso lavora veramente tanto diciamo anche come combattimenti con certi pesci pescare per ore diventa veramente faticoso e mi dà veramente fastidio quindi ho deciso di portarle a nuova vita allora come prima cosa le ho portate ad anellare ho fatto togliere tutti gli anelli vecchi ho tolto i cimini tolto l'impugnatura voglio fare un'impugnatura lunga che mi prenda il braccio in modo che possono essere utilizzabili ho preso dei nuovi anelli nuovo set per il mulinello finalmente sono state anellate e pronte cioè pronte quasi eh c'è ancora un attimo da lavorarci ce le ho qua e adesso ve le tiro fuori prendiamo la prima quella nera con il manico in eva ecco qua il grezzo praticamente è una canna praticamente da jig anellatura completamente nuova calcio nuovo è uno spettacolo mi pare un'altra canna adesso ci sarà da lavorare qua ci sarà da lavorare il carbonio cioè il carbonio cioè non è che posso fare chissà che il grezzo però magari una coloratina adesso vediamo adesso ce la studiamo per me ha un valore veramente importante questa canna nuovi anelli gli danno tutto un altro aspetto guardate qua rimasta ancora la scritta del bus pro shop queste canne sono importate dall'america infatti e questa è la seconda sono simili cioè l'anellatura è praticamente la stessa cambiano un attimo delle cose stesso manico stessi anelli parlando seriamente non ho potuto fare io questo lavoro avrei fatto un casino non ho i fili le conoscenze avrei fatto un casino quindi ho detto prima di buttar via due canne rotte facciamo fare a qualcuno che sa fare questo lavoro è quasi pronta come vedete c'è questa secondo me è quella che ci sarà da lavorare di più abbiamo la vernice un po rovinata c'è un po da carta vetrare bisogna fare il calcio questa ad esempio vorrei ridipingere perché ci sono i segni dei vecchi anelli si vedono di più anche la vernice stona cioè ci sono le scritte eccetera eccetera e vorrei proprio farla diventare una canna tutta nuova faremo il calcio insieme tra poco probabilmente lo vedrete non so bene adesso questa invece è una canna più morbida e per me sarà tutto nuovo non ho mai fatto non ho mai lavorato una canna e sono contento di poterla fare come voglio io non so se verrà proprio come vorrei io però che questa canna che ha un valore molto speciale per me diventi ancora più mia perché ci ho messo buona parte io le mani sia molto personale dunque adesso io vorrei provare un attimo a vedere cosa fare proviamo un attimo su un foglio di carta farò il manico e il sughero perché è il più semplice per me e anche più economico userò dei tappi di sughero o ne ho vari sono un grande vitore sì come dicevo questa ho intenzione di verniciarla grigia un grigio abbastanza moderno che sarà abbinato con un mulinello che saranno uguali per entrambe teniamo sul vecchio stile cioè vecchio dio ha 15 anni quanti anni ha non mi ricordo più ho due canna del genere e vorrei provare a mettergli questo grigio sono un pochino più scuro anche un po' per abbinarla invece questa magari ci farei un attimo due tocchi estetici perché ha un bellissimo carbonio adesso magari con un po' più di luce si vedrà ha un bellissimo carbonio che riflette e non vorrei toccarla questa invece la rossa invece ha un po' più di segni di usura e quindi vorrei un attimo riportarla più a nuova allora io adesso vorrei spostarmi sul foglio di carta per capire cosa si può fare e capire un attimo come farla al meglio the pen is on the table e possiamo iniziare invece l'altro magari fare una fine un pochino più grossa ma comunque adesso io non so disegnare bene in proporzione però non è che diventerà i 7 centimetri magari lo faccio di 4 centimetri non so adesso devo vedere ce la studiamo quindi direi di passare alla fase di costruzione ciao ciao Grazie a tutti.